ecco dunque quello che si trova in via sul ferino a seregno una lavatrice spazzatura di ogni tipo la puzza con queste temperature ovviamente si sente moltissimo e da quanto ci dicevano i residenti ci dovrebbero essere anche dei rifiuti tossici come colle e amianto però l'ammasso è talmente tanto che si fa fatica anche a capire cosa è stato buttato però vi assicuro che la puzza è veramente disgustosa questo secchio è addirittura usato come posa cenere scarpe ombrelli insomma come al solito le persone incivili sui marciapiedi buttano di tutto ed è nata l'ennesima di scarica cielo aperto